ho leggerlo beh, penso che questo mondo sia pronto per il mio arrivo ho mandato questi strani segnali ho mandato questi strani segnali per avvertire tutti dal mio arrivo anche se sembra che in quella città al momento non ci sia nessuno però aspetta un attimo vado a vedere cosa c'è allora, ho mandato questi strani segnali al mondo per avvisare tutti gli abitanti del mio arrivo ma penso che non ci sia nessuno al momento e penso che dovrei anche rimuoverli questi segnali in una strana città cos'è questo posto? un portale del nether? che ci fa qui un portale del nether? c'è la nether? che cosa? che cosa? vabbè di aerobrine creazione di nuovi blocchi quindi c'è aerobrine qua mmm good però penso che adesso non ci sia nemmeno l'un vabbè dovrei andare in questa casa io a quanto farei i mob gli animali non sono stati attaccati vabbè andrò a vivere in questa casa magari in futuro mi ricostruisco una stessa ora si dai uscita bene uscita bene sì voglio ancora devo ancora affidare all'interno ma prima ho scapinato una cassa che c'era metterò questo letto dentro poi magari in futuro aggiungerò altre altre cose e gli cambierò il colore e soprattutto vediamo se oh no 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 mi deve vedere vabbè lasciamo era un fake alle sue cose e mmm chissà se intanto che sta volando l'ho controllato se c'è qualcosa di nuovo in città e infatti o sarà stato ender che ha pensato ad occhie a caso e e e cos'è quello? cos'è quello? aspetta no non mi dire che no 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 lui è ancora qui penso di sapere cosa devo fare devo chiamare l'unico modo per salvarmi è chiamare lui ma io se lo chiamo al telefono intanto ho 64 telefoni ma gli altri sono dei miei amici e di quelli che ho trovato a terra durante il viaggio penso che dovrò fare un magazzino e dovrei anche risalire ma aspetta che non lo chiamo bippo 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 quindi quindi se se c'hai la possibilità di farlo per me va bene ah ho 64 telefoni in mano quindi quando vieni se vuoi te ne do uno ok? ciao speriamo speriamo che si presenti che io penso quella sia la casa di Gianfranco ma non voglio andare a controllare non voglio assolutamente magari lunedì ci andiamo bene